Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà il ritorno di un po' di nuvole e qualche pioggia al centro nord per il passaggio di una debole perturbazione atlantica. Però in effetti come nuvolosità ritroveremo questa domenica parecchie nuvole al centro nord, domenica piuttosto grigia nelle regioni centro settentrionali, specie al nord e sul medio e alto terreno. Come precipitazioni però poca roba, vi segnalo però qualche gocciolina a inizio giornata al nord ovest, sull'arco alpino, nel pomeriggio anche tra Toscana e Lazio e poi qualche residuo pievasco nelle regioni meridionali ioniche, ma in tutti questi casi piogge sporadiche e di breve durata. Quindi in definitiva giornata discreta sul medio adriatico e al sud, solo qualche residuo a pioggia diciamo sulle regioni ioniche, invece cielo un po' più grigio al nord a medio e alto terreno, piogge deboli ma sempre di breve durata. Con questo è tutto, per dettagli sulle singole località vi aspetto su trebimeteo.com.